Un saluto a tutti gli lettori di HDblog. Finalmente il tema material design è arrivato all'interno del Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, lo trovate nella sezione temi, è gratuito e può essere applicato senza alcuna modifica sul vostro top gamma Samsung. Cosa cambia? Non cambia assolutamente nessuna funzionalità della TouchWiz, ma abbiamo una nuova estetica un po' per tutte le funzionalità e applicazioni anche proprietari Samsung del telefono. Come vedete partiamo dalla parte telefonica che è stata cambiata a livello cromatico, tasterino bianco con caratteri blu, icone verdi, parte alta blu e ovviamente accento uguale al corone dell'applicazione. Tutto adesso è molto più stile material, molto simile all'interfaccia Nexus, almeno a livello cromatico. Come vedete anche il menu delle applicazioni adesso ha un'icona diversa e le icone proprio dei programmi sono state modificate. Abbiamo infatti delle nuove icone per memo, archivio. L'archivio per esempio ha cambiato colore, abbiamo delle icone con una variazione cromatica proprio delle varie funzionalità, mentre il resto delle caratteristiche rimane invariato. La calcolatrice è stata completamente rivista a livello estetico, mentre a livello funzionale ovviamente tutto rimane esattamente uguale. Anche il calendario ha una nuova icona, molto più in linea con il pacchetto di icone ufficiali Google e come vediamo anche qua i colori sono stati leggermente rivisti e leggermente modificati. Cambia anche l'icona camera, ma le funzionalità camera ovviamente sono le solite. Cambia l'icona Galaxy App, la galleria che anche qui ha un colore diverso nella parte superiore dell'applicazione. Cambia il tasto impostazioni, cambia il lettore musicale a livello estetico l'icona, ma a livello funzionale abbiamo appunto esattamente le stesse identiche opzioni. Cambia poi l'icona della rubrica e la parte dei messaggi. Parte dei messaggi adesso con questo stile un pochino più Google, ma chiaramente stiamo parlando sempre dell'applicazione messaggi ufficiale di Samsung. Come vedete anche la tastiera di Samsung, quindi questa non è la tastiera Google, ma è la tastiera di Samsung, riprende completamente il layout della nuova Google Keyboard. Abbiamo poi altre caratteristiche, ovvero la parte dei quick settings che è stata modificata e in questo caso vedete che il colore è molto vicino a quello Google ufficiale, quindi dei Nexus. Nella parte delle impostazioni ovviamente è possibile andare a modificare tutte le caratteristiche della touch width e anche nelle impostazioni vedete come tutto si è cambiato a livello cromatico con uno stile molto più simile a quello dei Nexus. In questo caso sto usando Android 5.1.1, dunque se vedete qualche differenza rispetto al vostro Galaxy S6 è assolutamente normale. Grazie per la visione!